È arrivata fino alla VCO l'indagine dei militari del Comando Provinciale e Carabinieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, denominata Isola Fiscale. Una delle ordinanze di custodia cautelare firmate dal GIP del Tribunale di Brescia, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura Bresciana, è stata eseguita questa mattina a Gignese. Sono 33 in tutto le persone coinvolte, ritenute gravemente indiziate a vario titolo di associazione per delinquere, con l'aggravante di aver agevolato le attività di una nota cosca andranghetistica del crotonese in relazione a condotte di usura, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, favoreggiamento, oltre a reati tributari e fallimentari. Il GIP ha disposto anche il sequestro finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di oltre 6 milioni e mezzo di euro. Le perquisizioni hanno riguardato 12 province, tra Lombardia, Veneto, Piemonte, Umbria, Sardegna, Basilicata e Calabria. L'operazione si inserisce in una complessa attività di indagine coordinata dalla DDA della Procura di Brescia, originariamente svolta dai carabinieri di Bergamo, in relazione a condotte estorsive che sarebbero state poste in essere nella Bergamasca da alcuni soggetti ritenuti collegati a Andrine e Calabresi, il cui sviluppo ha portato, a seguito del coinvolgimento anche della Guardia di Finanza per la definizione degli accertamenti di natura economico-finanziaria, alla ricostruzione di un giro di false fatture per oltre 20 milioni di euro. Questo sarebbe stato realizzato da Sodalizio, mediante almeno 7 società cartiere intestate a prestanome o imprenditori compiacenti e con sedi in Lombardia, Umbria e Calabria, al fine di riciclare i proventi delle attività delittuose del clan andranghetista della famiglia Arena di Isola di Capo Rizzuto. Le indagini hanno oltresì consentito di delineare, in ipotesi accusatoria, il ruolo di alcuni professionisti contabili, quali, attraverso la propria opera di consulenza, sono indiziati di aver ideato e attuato modelli seriali di evasione fiscale a beneficio delle società riconducibili al Sodalizio criminale. Sarebbe anche emersa la compiacenza di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, destinatario di misura cautelare e personale per l'ipotesi di corruzione, il quale, a fronte di sistematici compensi, avrebbe agevolato l'erogazione di alcuni servizi di natura fiscale richiesti da uno dei professionisti. Nel corso dell'indagine sono emersi anche riscontri a proposito di alcuni casi di usura denunciati da imprenditori in difficoltà.